Ehi là, buongiorno, benvenuti e bentornati e finalmente siamo qui a parlare di Sabrina della terza parte delle terrificanti avventure di Sabrina wow e questa volta, come avrete potuto vedere dall'ultimo video gli appunti sono scritti a mano, come ai vecchi tempi perché non avevo voglia di stare a computer come al solito, prima di iniziare andate a guardare sotto nella descrizione tutti i link che vi ho lasciato in cui troverete la mia pagina Instagram, Facebook i link di affiliazione di Amazon, Feltrinelli, Mondadori, IBS e Libraccio e la mia pagina Ko-fi in cui potete donarvi un caffè e il link del sito Tostador in cui potete trovare tutte le magliette, cuscini, poster e cose a tema nerd quindi non perdiamoci in chiacchiere e ovviamente mettete mi piace a questo video e condividetelo e commentate qui sotto quindi ho visto la terza stagione di Sabrina ormai più di un mese e mezzo fa e sono rimasta scioccata dal livello di tresciume che si può vedere in questa terza parte uno pensa che una serie non può andare più in basso di così e invece ci riesce, ci riesce in una maniera così fantastica che tu non puoi non stare lì a guardarla perso nei meandri di questa roba e ha raggiunto questo livello di tresciume proprio partendo dal fatto che gli stessi sceneggiatori sembrano essersi dimenticati che cosa è successo nelle scorse stagioni ed ecco poi i miei riassunti se volete ritrovarvi un attimo questo ovviamente non è un riassunto ma parlerò della trama per capire che livello abbiamo per questo farò un po' di spoiler ma non temete, ci divertiremo, spero ricordiamo che il finale della seconda stagione e partenza di questa terza è il piano di Sabrina per andare a liberare il suo ragazzo dagli inferi peccato che intanto Nicolas si era offerto volontario per custodire, per tenere ingabbiato Satana Satana che è stato antagonista di tutta la seconda stagione e che ovviamente essendo il re dell'inferno e quant'altro è un tantinello forte quindi ci serve una persona molto motivata per tenerlo a bada in ogni caso vogliono liberarlo all'inferno anche se ce l'hanno messo due secondi prima perché Sabrina ne sente la mancanza evidentemente non ha altri strumenti nei suoi cassetti che potrebbe usare e uno pensa che abbia già creato un piano per andarlo a prendere per mantenere comunque l'equilibrio che hanno creato e per fare in modo che Satana non si possa liberare e invece ovviamente Sabrina, ovviamente nel frattempo Lilith è diventata regina degli inferi uno pensa che abbia il diritto di stare lì essendo la consorte di Satana che abbia già affrontato gli altri demoni che vogliono la corona e che non ci siano problemi invece no perché anche qui gli altri demoni non la vogliono e lei non è abbastanza brava per imporre il suo potere come fanno tutti i dittatori della storia e quindi parte una gara in cui i demoni vogliono una gara per avere la corona ma ovviamente non partecipa Lilith partecipa Sabrina perché lei ha il sangue della stella del mattino dentro di sé e quindi è legittimata a richiedere il potere però il tizio che ti sta sfidando non ce l'ha questo legame di sangue col re precedente quindi perché non poteva essere semplicemente Lilith a sfidarlo e a vincere la gara? non lo so inoltre Sabrina dice che non vuole quel posto che lo sta facendo solo perché così poi regnerebbe Lilith al suo posto ma si capisce subito che è tutta una panzana perché lei vuole il potere, vuole la corona vuole i sudditi ai suoi piedi e ancora una volta Sabrina ce la racconta e ci dice che lei è bravissima, fantastica, altruista che non vuole le cose per sé ma è una cagata e io qui mi aspettavo una bella guerriglia una bella guerriglia tra Lilith e Sabrina giustamente visto che sei rimasta sul trono due giorni e poi la tizia che avrebbe dovuto aiutare ti ha detronizzata invece no Lilith diventa la sua schiava praticamente le spiega come funziona l'inferno le spiega quali sono i suoi doveri e l'aiuta e la tiene lì con la testa perché Sabrina già al secondo giorno di gara si era distratta ed era andata a farsi i suoi infatti torniamo un attimo a Nicholas vanno nell'inferno facendo tutto uno giro strano e un rituale bla 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 per usare tra l'altro i mortali e lei usano delle scarpe dei morti praticamente trafugano le cose in un cemitero nella casa di Sabrina visto che sono delle onoranze funebri perché così avrebbero potuto camminare nell'inferno senza essere visti e si bagnano anche con l'acqua un'acqua putrida non mi ricordo nemmeno io fatto sta che si diventano schifosamente sozzi e puzzolenti hanno delle scarpe appartenute a dei cadaveri e tutto ciò dura due secondi poi li beccano bene saltiamo avanti veloce liberano Nicholas e lo cacciano nelle segrete dell'accademia perché non sanno cosa fargli fare si sono dimenticati di farle elaborare chissà quale piano quindi intanto lo mettono lì e noi andiamo avanti con le altre storie intanto Ambrose insieme a Prudence sono partiti alla ricerca di padre Blackwood parte pure una storia imbarazzante tra di loro non stanno bene insieme neanche a morire quindi una storia d'amore tra di loro è terribile e trovano padre Blackwood lo portano all'accademia e i geni del cremine che abbiamo in questa serie decidono di trasferire Satana dal corpo di Nicholas al corpo di Blackwood ora c'è sto tizio che non vuole il potere a tutti i costi e farebbe di tutto per essere liberato e parlo sia di padre Blackwood che di Satana perché il discorso è lo stesso ammettere uno ammettere padre Blackwood che non vuole stare lì a tenere uno che non vuole stare lì cosa potrebbe andare mai storto mi chiedo io perché in due secondi scappano questi qua e chi lo sa ciliegina sulla torta di tutta questa cosa le streghe perdono i poteri e perché perdono i poteri? perché i loro poteri erano dati da Satana bene ora perché Satana non ha mai tolto i poteri e basta a Sabrina se era lui quello che gli concede quando Sabrina ha cagato il cazzo per non voler firmare il libro per non voler essere qui non voler essere là se lui semplicemente può decidere perché quando hanno tolto i poteri a Zelda e Hilda gliel'hanno tolti di loro spontanea volontà perché Sabrina può continuare a fare quel cazzo che vuole e non si sa inoltre perché hanno messo Lilith al potere sapendo bene che i loro poteri derivano da Satana e Lilith non è in grado di darglieli perché a quanto pare serve il sangue di un angelo e perché adesso Lilith è al potere se tanto non può fare niente e così anche gli altri demoni dell'inferno non possono fare niente non sono ex angeli perché avete fatto queste cose? l'avete decise voi ma scusate voi intendo i personaggi perché avete fatto tutto? non potevate lasciare Satana continuare ad ammazzare i bambini come facevate prima e a mangiarli dovevate dare retta a una sedicenne con gli ormoni a palla che non sa che cosa vuole dalla vita secoli in cui la tradizione va avanti e così arriva a sta qua e che spara boiate una dietro all'altra e tutti dietro a darle ragione quindi vabbè c'è tutto il piano delle streghe per ritrovare i poteri così colà quando hanno rinchiuso Satana nel semi interrato praticamente attaccavi due cavetti per la batteria e usavi lui come una patata non lo so per ricevere energia magica e invece no e andiamo a cercare modi astrosi per riavere i poteri poi arrivano gli altri cattivi di questa stagione che sono pagani che vogliono ammazzare tutti anche loro e vogliono ammazzare le streghe oh mio dio e Nilda viene trasformata in un ragno non si sa per quale motivo perché la tipa è presa a male poi vediamo i mortali che anche qui non si sanno fare 5 minuti di fatti propri e quindi vengono trasformati dai pagani tipo quella che vede il futuro viene trasformato in una pietra mentre cercava di fare cosacce con Harvey e tra l'altro tutta la storia di Harvey della prima volta mio dio che l'ansia e poi che imbaraccia io sono imbarazzata perché Harvey non si sa guardare dentro 5 secondi e non riesce a capire che provo ancora qualcosa per Sabrina e che è solo una cotta di cui non ti frega più niente per la tizia che con cui stai adesso ma facciamo finta di niente facciamo finta di niente e andiamo avanti Sabrina nei suoi compiti da nuova argina provvisoria degli inferi deve andare anche a cattare le anime che la gente ha donato a Satana e lei riesce a farlo no perché è una cosa cattiva come fai a togliere l'anima alle persone così su due piedi senza conoscerle ma è una cosa cattiva Sabrina tu sei la regina dell'inferno tu sei la cattiveria la personificazione della cattiveria stessa non puoi sia voler essere la regina dell'inferno che madre Teresa sono due cose in contrasto e non puoi salvare le persone non è se devi pure dannarle per l'eternità non puoi lascia stare va a tenere la scuola mortale e resta lì tutto questo buonissimo in questa serie letteralmente fanno sacrificio al diavolo perché sono streghe lo venerano mangiano i bambini mangiano le loro stesse si mangiano tra di loro le streghe fortuna gli umani ma che ne so e poi arriva Sabrina che deve essere il cappuccetto rosso che saltella nel prato col cestino e essere felice e contenta e buona con tutti no non è possibile e quindi alla fine come in tutte le altre stagioni si risolve tutto in uno sputo senza capire bene come si collega il finale al resto della trama e qui ci hanno buttato in mezzo anche un viaggio temporale che in teoria grazie sempre a Sabrina ha creato un buco spazio temporale che dovrebbe far implodere l'intero universo non capisci che abbiamo risolto ogni cosa e quindi Sabrina però riesce a ottenere tutto quello che vuole perché non c'è bisogno di rinunciare a qualcosa nella vita per avere dell'altro che ti interessa di più no si può avere sempre tutto non importa se fai del male a tutto il resto dell'umanità non importa se per avere una briciola tu devi togliere l'intero cibo a tutto il resto del mondo non importa Sabrina è buona e gentile non vuole prendere un'anima di uno che l'ha donata a Satana di sua spontanea volontà ma poi per avere quello che vuole lei distrugge l'intero sistema cioè l'intero universo è tutto normale è tutto assolutamente giusto Sabrina è un personaggio fantastico forte e lo fa con questa faccia da angelo con quel sorrisetto furbo che vorresti solo prendere la pesce in faccia e poi niente ci sono qualche risvolto bondage per Nicolas che sembra un ex drogato che deve ex drogato barra tizio con il disturbo a stress post-anomatico che deve trovare un senso alla sua vita poi lascia Sabrina ma non vuole bla 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 cose e quindi questo è Sabrina terza parte io non ho molto altro da aggiungere è stupendamente trash io adoro questa serie e spero che continuino per un sacco di altre stagioni perché non vedo l'ora di capire come possono andare avanti come decidano di far fare cioè alla fine Sabrina conquisterà il mondo delle streghe dei mortali e lo distruggerà cosa che va cercato di impedire agli altri ma lei se vuole farlo lo può fare perché è Sabrina e ditemi voi se l'avete vista cosa ne pensate commentate qui sotto scrivetemi iscrivetevi qui su YouTube sul mio canale Instagram che non si chiama canale sulla pagina Facebook e condividete ci sta sempre bene e noi ci vediamo al prossimo video ciao